Amici di milan.soc ben ritrovati sul canale dedicato alla prima squadra di Milano, grazie a tutti coloro che quotidianamente ci scelgono. Benvenuto a chi è nuovo, ricordo come sempre l'iscrizione al canale qui sotto semplice e gratuita, un like a questo video e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se invece volete notizie sulla seconda squadra di Milano qui sotto, link in descrizione, il primo canale in Italia completamente dedicato a Milan Futuro, il Milan Under-23. Lasciatemi dire che a volte sono in imbarazzo perché, diciamolo, ci sono servizi, chiamiamoli video, servizi, chiamiamoli come volete, chiamateli, che vorrei ripetere sull'uno e sull'altro canale, perché sono proprio a cavallo. C'è stata una questione sui Liberali che ancora mi lascia l'amaro in bocca. Qualcuno l'avrà già vista, perché è già andato sul canale Milan, ha commentato, Milan Futuro.soccer. Se chi, qualcuno magari non è andato, non l'ha visto, se vuole può andare, ma non è un modo per farvi linkare. Ve lo dico già qui, è una questione molto più seria di fare un clic in più, un clic in meno. E cioè questi stanno pensando di dar via Liberali. Cioè, perché? Perché deve giocare di più. E allora perché avete fatto Milan Futuro? Questa è la domanda. Lì l'affronto in maniera un po' più stringente, mi faccio domande, probabilmente qualcuno ha già risposte. Una risposta è che c'è un grande club che lo vuole. Io però onestamente ogni tanto mi avvicino al loro modo di pensare. Ogni passo avanti ne faccio due indietro, con questa proprietà, con questa società. Sono veramente in difficoltà. Però, 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 mi hanno dimenticato, tra l'altro la direttrice ci stava dormendo sopra, che sono in vendita le ultime copie di Vocabolario Milan. Tutto il Milan dalla A alla Z. Qui sotto, link in descrizione, Amazon ve lo porta a casa. Al prezzo di 10 euro. Ogni lettera dell'alfabeto una curiosità, ma davvero una curiosità. Non le solite cose che già si conoscono del Milan, quando è nato, dove è nato, eccetera, eccetera. Con curiosità. E non solo del Milan, del mondo del calcio un pochettino. Una lettura, una rivista, chiamiamola più rivista, che è il libro semestrale. Però, 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 ancora un però. Un plauso lo faccio a questa società, perché c'è una nuova iniziativa, e questa volta io devo dire che è un'iniziativa lodevole, è una nuova policy per le calciatrici in maternità. È un rinnovo automatico in caso di gravidanza. Rinnovo automatico, assistenza per la cura dei figli, sono questi i temi al centro della nuova policy per la maternità delle sue tesserate, lanciata dal Milan. Come primo club all'interno dell'elite del calcio europeo, a Similan presenta un'innovativa policy per la maternità delle sue tesserate, garantendo loro, in maniera formale, una serie di tutele durante la gravidanza e la prima infanzia dei figli, che vanno oltre la normativa vigente, si legge nel comunicato del club rossonero. Secondo il 2017, vabbè, adesso poi ci sono una serie di dettagli, che risparmierei, perché voglio passare poi alla notizia di copertina. Più che notizia di copertina, un confronto, un confronto in questi primi giorni del Milan di Fonseca. Ricordiamo, è iniziata l'avventura l'8 luglio. L'8 luglio è stato un giorno di festa, eravamo in pochi a Milanello, continua a dirlo, con immagini ufficiali girate da me, eravamo veramente in pochi, ad accogliere Fonseca, quindi chi dice carro del vincitore, carro del perdente, io c'ero, io c'ero ad accogliere Fonseca. Però lo accolgo con intelligenza, non sono lì con l'anello al naso a bere tutto quello che mi dicono dalla società. Quindi io c'ero. Con il mister che dopo la conferenza stampa ha diretto il primo allenamento a Milanello. Dalle prime indicazioni è subito emerso che ci sono sostanziali differenze. Ora andiamo a vederle però un po' nel dettaglio. Innanzitutto per quanto riguarda la questione relativa all'aggressione sui giocatori avversari nel momento del possesso della palla. Quella è la prima cosa che va notata. Finalmente, ma voi ve lo ricordate il Milan di Pioli, quando tranquillamente aspettavano gli avversari con la palla al piede ai limiti dell'area. Perché? Perché è lì che aggredivano, provavano a portarvi a palla perché il Milan, quel Milan era forte in contropiede. Io, nelle amichevoli, non ne parliamo poi, stiamo facendo una differenza tra amichevoli e partite ufficiali. Non ne parliamo proprio. Questi, nelle amichevoli, già aggrediscono i portatori di palla, non facendoli ragionare. La seconda questione, quindi questo è il primo aspetto, la seconda questione riguarda l'uscita veloce, palla al piede, dalla difesa. L'ho vista meglio con il Rapid Vienna. L'ho vista con il Manchester City, l'ho vista meno con il Real Madrid. Ma non l'ho mai vista con Pioli. Io con Pioli questa cosa non l'ho mai vista. Nel momento in cui il Milan non riusciva a ripartire in contropiede, c'era o il lancio lungo per Girouda parte di Mignat, o il tentativo di uscire che era sempre goffo, abbiamo fatto non so quanti errori e quante volte abbiamo perso la palla, e in questo caso direi che c'è questo elemento in più. Quindi, il primo è l'aggressione sul portatore di palla, il secondo l'uscita stile tic-tacca, anche se qualche giocatore mi preoccupa, perché Pavlovich è forte, ma palla al piede diciamo che non è un'unesta, o magari ditemi voi il nome di qualcuno che gioca in regia di difesa. Comunque, la parola più importante che direi tra i due allenatori è sicuramente l'intensità. Poi ci sono giocatori che io personalmente dopo anni, dopo un anno, un anno e mezzo, alcuni dopo due che erano stati acquistati dal Milan, non ero in grado neppure di giudicarli, perché li ho visti giocare così poco che in realtà mi sono sembrati degli acquisti sbagliati. Su tutti, Ciucuese. Io Ciucuese lo sto rivalutando perché a Ciucuese viene dato un ruolo che è quello che l'idea che aveva anche Pioli, cioè lì gioca Ciucuese, non era un'idea di Pioli, è lì che gioca Ciucuese, però fondamentalmente oggi gli viene data libertà e spazio e lo vede un altro uomo, un altro giocatore. Ma come lui, posso anche dire questo non c'entra Pioli, non c'entra Fonseca, sono due giorni che dico Castieco quando parlo di Salema Kerr. Vabbè, Salema Kerr. E poi c'è Pulisic, perché vedrete che Fonseca, Pulisic, lo farà giocare a sinistra, non sempre, perché con Leao ha già fatto chiaro, però metterlo a sinistra e metterlo a proprio agio già l'ha dichiarato Pulisic, ma non l'ha dichiarato solo Pulisic, l'ha dichiarato anche Ibraimovic, che Pulisic è già un altro giocatore, che l'anno scorso ha fatto bene, ma non benissimo, che può fare di più. Quindi c'era qualcosa in quel rapporto tra Pioli e Pulisic. E poi chiudo dicendo anche per quanto riguarda la questione dei giovani. Pioli, i giovani, non l'ha mai considerati. È inutile che mi venite a raccontare che è stato lui a fare esordire Camarda, che ha portato Zeroli, che ha portato... Non è così. Andate a vedere quando li ha portati. Li ha portati, in particolare Camarda, certo, era molto giovane, però li ha portati nel momento in cui il Milan, come alternativa, in attacco, avrebbe dovuto fare un concorso tra tutti quelli che avevano il biglietto a San Siro, come si fa negli Stati Uniti d'America, e vai a giocare cinque minuti in campo con i professionisti. Cioè il Milan non aveva nessuno, e allora è giocoforza dover convocare l'attaccante della primavera, anche se all'epoca era fuori quota, nel senso che aveva 15 anni, quindi il più giovane... Tra l'altro qui il romanzo... No, questo non è il romanzo Milan. Sul vocabolario Milan c'è proprio la classifica dei giovani che hanno esordito in Serie A. a chi è il più giovane di tutti? Sarà Camarda? Non è detto. Vabbè, adesso al di là di questo, non voglio spoilerare niente, le differenze, al di là degli schemi, un 4-2-3-1. Poi ho qualche idea che Pioli... Pioli a un certo punto aveva provato la difesa a tre, poi è tornato indietro, pentito, il fatto stesso che Fonseca da questo punto di vista abbia le idee molto più chiare. Mi sembra che abbia le idee molto più chiare. Beh, ognuno dirà le proprie differenze. Che cosa avete visto nei commenti, intendo? Che cosa avete visto di differente, in meglio o in peggio, nel rapporto tra Pioli e Fonseca? Io ho detto la mia. Per me in meglio c'è, come vi dicevo, l'aggressione al portatore di palla, la ripartenza da basso, palla al piede, il miglior utilizzo dei giovani e la rivalutazione di qualche giocatore su tutti i Ciuquese e Pulisic. Fatemi sapere la vostra. Intanto grazie per averci scelti. Ci vediamo più tardi. Ciao ciao!